Buonasera, benvenuti, quanti siete, ci eravamo tanto amati, buonasera, benvenuti, grazie di essere con noi, io sono veramente contento di fare questa trasmissione, sono veramente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che devo chiedere? Non è che la turbo Malerba uomo, malerba donna, malerba sua sorella Ho dimenticato la roba adesso, malerba fare un passo in più nel campo della moda maschile Nella la 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 la... momento malerba... Tu mangi di sensibilità nei miei confronti? Anche cazzo! E che devo dire poi quando glielo dico... Signora, la stravacco giù dalla sedia Lo faccia pure se lo fa lei... La sostanza molto resistenza... Lo ridico questo... O avere un rotolo di cartapaglia Foxy... Vai, presenta... Ho il tuo regno o il tuo regno? Eh? Ho il tuo regno... Un regno per palcoscenico... Un regno per palcoscenico, un rotolo di cartapaglia in bagno... E voi spettatori di questo epico dramma... Al posto dei cavalli dei rotoli di carta igienica... Allora Enrico da per suo assumerebbe il comportamento di cartapaglia Foxy... Senza dover... Che casalinga è bello appunto... Dedicarsi alla famiglia per me è molto stimolante... Molto appagante... Essere... Non so... Il punto... Si sta morendo un testimone... Vorrei... Vorrei inquadrare questa morte di un testimone in diretta... Signora... Ha inghiottito un orecchino... Io lo... Cosa fa? Un pelo di teo... Ecco... Sta meglio... Diciamo per cui... Ha fatto accettare il suo ruolo di casalinga... Eh... Sì perché... Secondo me... Niente... Sono un po' il punto centrale della famiglia... Chi ha dei problemi e si rivolge a me... Sono ben felice... Ma è diventato proprio il perno della famiglia... Sì... Senza essere considerata l'angelo della famiglia... Di vecchio stampo... Il testimone sta vomitando... Signora... Scancellate... Mi abbiamo fatto un attacco... La cancelliamo... Scancellate... Cazzo... Vuole un bicchiere d'acqua? Cazzo... Grazie... Eh... Io manderei tutto... Adesso... Adesso... Incomincio da avere i calzotti... E finché non mi vomita... E poi... Cazzo... Eh... Sa che si fa tutto qui a Cervano tanto amati... Se le scappa la pipì la può fare qua... Noi siamo alla prima trasmissione dei servizi... Igenici... Sanitari... Quello che Costanzo fa in nove puntate... Lo facciamo in cinque minuti... Con i costi minori... Grazie... Ma che vergogna... Grazie... Ma anche venti... Guardi perché sto morendo... Fa meglio... Beva tranquilla che tanto... Siamo in straordinario... Per cui faccia lento... Ci sta facendo perdere tempo... Scusatemi ma... Ma non si senta in colpa... Eh... Si deve sentire in colpa... Ci ha rotto le p***e signora... Con questo... Le p***e di tosse... Eh... Si faccia qualcosa... La p***e di tosse... La p***e di tosse... Madonna... Con tutte le persone sane... Ma è la prima volta in vent'anni... È la prima volta in vent'anni... Che mi succede... E tu cosa mi guardi... Guarda piatti... E se la smetta... Come forse avrete intuito... Questo ragone... Che segna la fine... Questa trasmissione... Siamo spaventati... E' arrivata... E' arrivata... E' arrivata... E' arrivata... E' arrivata... Signora... Ti sembra di più... Signora... Ho speso 140 mila lire... La p***e tutta... Senta... Vorrei chiederle... Guarda... Mi fuggono... Guarda... No... Ma arrivata... Guarda... E' così... Ciao... Ciao... Come c'è... Scusate... Signora... Ma... Scusate... Buonasera... Buonasera... Benvenuti... Rete 4... C'eravamo tanto amati... To... E' saltato l'Apex...